Musica Lettura libera nelle scuole è la proposta di legge rivolta al Parlamento approvata dall'Aula del Consiglio regionale, una proposta che nasce in seno alla Commissione Cultura, prima firmataria la Presidente Cristina Giacchi e che adesso verrà inviata alla Camera dei Deputati. Chiede al Parlamento di approvare una piccola modifica della legge del 2020 che recava come titolo disposizioni sulla promozione della lettura e che vorrebbe introdurre ogni giorno a scuola almeno 15 minuti di lettura libera. Uno spazio libero per recuperare con la lettura un rapporto più legato alla passione che all'obbligo. Purtroppo i nostri ragazzi spesso leggono solo per obbligo e questo li allontana dalla possibilità di godere di questa attività nel senso più pieno che può offrire. Devo dire che ci ha invitati a questa riflessione una ricerca pubblicata dal Sole 24 Ore nel 2022 sulla base della quale si dimostrava che durante il lockdown il 51% dei ragazzi tra 11 e 18 anni aveva aumentato il numero di libri letti. Questo ci ha fatto pensare che avendo meno distrazioni, con le condizioni diciamo di contesto adeguate, un rapporto con la lettura non era in viso ai ragazzi, era anzi veniva coltivato. Quindi abbiamo pensato perché non creare questa opportunità ogni giorno a scuola in modo da radicare una buona abitudine. Sappiamo che anche le cose che ci fanno bene spesso non ci abituiamo a farle. Invece la ripetizione quotidiana può portare appunto a maturare una relazione differente con la lettura. Gli studi dei neuroscienziati ci dicono poi che almeno 15 minuti è il tempo necessario per cadere in quella condizione di, entrare in quella condizione di lettura profonda. Ci vogliono mille secondi e quindi abbiamo indicato nella legge almeno 15 minuti in modo che gli insegnanti, le scuole liberamente possano organizzarsi. Devo dire che non è un'assoluta novità perché nel Paese esistono già moltissime buone pratiche di questo tipo messe in atto da scuole, da enti locali o anche da organizzazioni. Per esempio il Festival Letterature di Mantua, la città di Brescia, il Friuli Venezia Giulia ha fatto un progetto regionale e molti molti altri. Ma diciamo in questo caso il vantaggio di avere una, di poter disporre di un tempo di questo tipo ricadrebbe solo su alcuni ragazzi. La legge che noi vogliamo proporre al Parlamento è un modo per generalizzare questa che riteniamo sia un'opportunità per offrirla a tutti i ragazzi e le ragazze italiane, a tutti i bambini e le bambine. Il testo della proposta di legge, sottolinea Cristina Giacchi, non prevede incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico né ore di insegnamento eccedenti rispetto all'orario previsto, oltre che non prevedere alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica. La proposta sottoscritta da tutti i componenti della Commissione Cultura è stata approvata con voto unanime dall'Aula Consiliare. È un'esperienza che già c'è stata in Italia, in Lombardia, insieme alla Norvegia. Hanno visto che leggere per 15 minuti, perché si parla di 15 minuti, per ogni mattina però, in classe, qualunque cosa, perché può essere un libro, una rivista, un fumetto, però è una lettura silenziosa che ogni alunno o alunna fa e anche l'insegnante. Serve a che cosa la lettura? La lettura serve a ampliare il vocabolario, sicuramente perché oggi sappiamo anche che è molto ridotto il vocabolario dei giovani, quindi a comunicare meglio il nostro pensiero. Inoltre, secondo me, secondo anche, diciamo, chi studia queste cose, serve a sviluppare il pensiero critico. Se non è la lettura svilupparlo, chi può essere? E quindi siamo favorevoli a questo tipo di, a questa proposta di legge che ogni singola scuola adeguerà alle proprie esigenze, nel primo e nel secondo ciclo ovviamente. Una proposta di legge che va a interessare anche il sistema delle biblioteche pubbliche della Toscana. Un patrimonio incredibile, non soltanto di documenti ma anche di dedizione, sono state costruite con pazienza nelle scuole, è chiaro che saranno valorizzate e sarà il primo luogo dove si andranno a reperire i libri da leggere. Ripeto, quello che noi riteniamo fondamentale è che venga lasciata ai ragazzi la massima libertà nello scegliersi che cosa leggere. Sanità al centro della proposta di risoluzione presentata da Fratelli d'Italia, con la quale si chiedevano interventi in particolar modo nei dipartimenti di emergenza e urgenza. Noi riteniamo che alcune cose possono essere migliorate immediatamente, pensiamo per esempio che si debba aumentare i posti letto nei pronto soccorsi perché un conto è se una persona una volta ogni tanto sta uno, due, tre, tre giorni e mezzo in una barella in un corridoio e già non andrebbe bene. Ma se tutti i giorni ci sono persone che stanno 24, 36, 48 ore barellate nei corridoi dei pronto soccorsi senza acqua, senza cibo perché non è previsto quel tipo di somministrazione per chi sta lì nel pronto soccorso, evidentemente bisogna cambiare la struttura, bisogna aumentare i posti letto nei pronto soccorsi. Noi pensiamo che si debbano aumentare gli ambulatori per codici bianchi nei pronto soccorsi. Una percentuale importante di accessi ai pronto soccorso è per codici bianchi, comunque per situazioni di livello molto basso, di intensità bassa. Dobbiamo quindi differenziare la prestazione sanitaria per chi arriva in fin di vita e per chi arriva con un dito da steccare, che comunque ha bisogno di avere una prestazione sanitaria. Noi pensiamo che nella proposta di risoluzione che il Fratelli d'Italia ha presentato oggi in aula ci siano tante risposte all'emergenza della sanità toscana, all'emergenza della crisi dei pronto soccorsi, purtroppo la maggioranza, parte della maggioranza, ha votato contro. Avevamo proposto di portarla in commissione, dicono dalla maggioranza visto il diniego, abbiamo votato contro per questi motivi. Alcune delle cose che sono scritte sono di pertinenza nazionale, alcune riguardano non soltanto il Ministero della Sanità ma addirittura il Ministero dell'Istruzione e altre invece sono cose che già esistono, tipo i dipartimenti di emergenza e urgenza che già esistono e all'interno di questi già sono integrati i medici del centro che lavorano sul territorio e i medici che lavorano dentro il pronto soccorso. Un lavoro difficile, come dicevo, perché spesso sottoposto a burnout, sono quei posti dove la decisione deve essere istantanea e molto spesso da quella decisione può dipendere la vita o la morte di una persona. è chiaro che parlare di pronto soccorsi non è così semplice e secondo me non si può risolvere nell'arco di una discussione consigliare perché gli argomenti da affrontare sono tanti e ci sono anche tanti argomenti che sono interconnessi. Cioè sicuramente la medicina del territorio, le case di comunità, una volta che lavoreranno e quindi potranno svolgere una serie di servizi, tipo le geografie, tante cose potremmo, diciamo, evitare quello che si chiama boarding e overcrowding dei pronto soccorsi. La regione toscana di per sé ha messo in atto e sta mettendo in atto, devo dire, ormai da tanti anni alcune misure, per esempio le borse di specializzazione che la regione finanzia da diversi anni in più rispetto a quelle che erano quelle ministeriali e nazionali, ma questo non è sufficiente in questo momento di carenza di medici. Con la Compagnia della Fortezza abbiamo sempre cercato di guardare molto lontano e quindi piano piano stiamo arrivando a quel tanto lontano a cui abbiamo guardato quando abbiamo iniziato la nostra attività. Un traguardo importantissimo, quello conquistato dalla Compagnia della Fortezza che da anni opera con i detenuti del carcere di Volterra che riceve la più alta onerificenza dal Consiglio regionale della Toscana, il Gonfalone d'Argento. Un riconoscimento molto importante che si unisce a un altro riconoscimento importante che è quello del leone d'oro alla carriera attribuito dalla Biennale di Venezia ad Armando Punzio e alla Compagnia della Fortezza. È un orgoglio per la città di Volterra ricevere questi importanti riconoscimenti proprio all'indomani dell'anno 2022 nel quale Volterra è stata la prima città toscana della cultura grazie al riconoscimento della regione toscana. 35 anni di lavoro dove abbiamo in qualche modo trasformato l'istituto di pena di Volterra, la casa di riuscione di Volterra, in una sorta di istituto di cultura. Sembra una cosa impossibile, sembra quasi un'esagerazione a sentirmelo dire anche a me stesso, però sta di fatto che da allora, 35 anni fa ad oggi, il carcere Volterra è diventato un carcere all'avanguardia per quanto riguarda il teatro e le attività trattamentali. Quindi è un risultato, credo, straordinario che anzi penso che debba essere questo premio, forse lo farà ancora di più riconosciuto e conosciuto non solo nella Toscana ma ancora di più in Italia e anche nel mondo. Premiato un lavoro che punta soprattutto ad aprire il carcere alla comunità esterna. Sul palco si porta uno straordinario lavoro quotidiano che svolge Armando Punzo ma che svolge anche tutta la sua struttura per, come dire, per sostenere il suo lavoro e la sua visione artistica e poi tanta progettazione, tanta formazione e tanto lavoro anche sul territorio per cercare di fare in modo che il carcere sia sempre più aperto alla comunità esterna. Ci sono state difficoltà nel lavorare con i detenuti? Provocatoriamente dico che le difficoltà ci sono più con le persone nel mondo esterno che quelle che troviamo all'interno delle carceri. Un premio che sottolinea ancora da che parte sta la Toscana. L'arte, la cultura rendono le persone più liberi, rendono le persone migliori e sono orgoglioso perché la Toscana che è stata la prima terra al mondo ad abolire la pena di morte. Oggi è anche la prima e la prima realtà a consentire che ci sia un teatro all'interno delle carcere, qualcosa di grande e di stupendo che noi continueremo a sostenere. Detenuti teatranti che grazie a questa alternativa hanno potuto assaporare un primo riscatto dagli sbagli compiuti nel passato. Più che altro sia un riscatto personale mio e poi se i benefici sono anche che vadano oltre a quello che si sta cercando di fare va bene anche. Basta che siano positivi. I nostri obiettivi non sono i premi, è uno degli effetti. In qualche modo i tuoi sforzi vengono apprezzati, è molto importante. Io spero che anche questo tipo di premio qui abbia anche degli effetti ancora più positivi e benevoli, più che noi personalmente, ma anche per la compagnia in generale. Il teatro è qualcosa che va oltre la pena detentiva. Il teatro in sé aiuta sicuramente la riabilitazione dell'essere umano, ma il teatro in sé è qualcosa che esola addirittura la pena detentiva. È stata e spero che continua a essere un'esperienza eccitantissima, formidabile. È un percorso, un viaggio formativo che non dovremmo fare solo noi, si pensa al detenuto che col teatro. Lo dovrebbero fare tutti gli esseri umani. Il teatro è cultura, l'arte è cultura. L'arte è sapere, il sapere è conoscere e relazionarsi col mondo esterno in una maniera più razionale, più consapevole. Avere un teatro stabile dentro il carcere di Volterra è qualcosa che amplificherà ancora di più il lavoro che sta facendo la compagnia. Un lavoro di ricerca durato quattro anni, quello presentato nella sala del Pegaso del Consiglio regionale da Fabio Zamponi, che in un libro ha rievocato in maniera dettagliata una delle più grandi tragedie ferroviarie, quella accaduta a Rimaggio, nel comune di Laterina Pergine, in provincia di Arezzo, il 15 ottobre 1946. Foto originali, documenti, testimonianze e dirette, alcune delle quali davvero emozionanti e toccanti, nomi, cognomi, luoghi di provenienza degli involontari protagonisti. Questo è raccolto nelle 122 pagine del libro, edito dal Consiglio regionale. È una bella emozione e anche una cosa immigratifica, perché questo incidente era stato tenuto nel dimenticatoio. Era una cosa caduta nell'oblio e tutt'oggi, non so spiegarmi perché, fino a che non ho preso in mano questo lavoro, nessuno sapeva niente di questa cosa, neanche tra la popolazione locale. Addirittura, durante queste interviste di cui si compone il libro, e lì c'è anche scritto, quel tratto di strada dove è avvenuto l'incidente era stato fatto con le macerie della casa dei miei nonni, che tedeschi avevano buttato giù in ritirata. E neanche i miei nonni avevano mai tramandato niente, nessuno mi aveva mai parlato di questa cosa. E questa è stata la curiosità e credo che debba essere una cosa da tramandare alle future generazioni, questo fatto storico così grave. Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, le vicepresidenti del Consiglio regionale, Marco Casucci, e la consigliera Lucia De Robertis. Si tratta del secondo disastro ferroviario, dopo quello di Viareggio, che è avvenuto in Toscana. Purtroppo con un po' di attenzione si poteva evitare, quello era un passaggio a livello non presidiato, era già stato previsto dagli alleati un sottopasso, si sta parlando dell'ottobre del 1946, quindi insomma tanti davvero anni fa, e questo autobus che portava a queste otto persone fu centrato in pieno, provocando davvero tanto sgomento. La storia deve essere conosciuta, perché deve essere di monito a far sì che errori, che purtroppo pagine dolorose come quella di Rimaggio non abbiano a ripetersi. E che cosa possiamo fare per tutto questo? Fare squadra per obiettivi importanti, quello della sicurezza, del vivere senza le preoccupazioni, dello stare sereni, dell'essere al centro delle attenzioni e delle istituzioni. Noi stiamo facendo concretamente questo, lo stiamo facendo al di là delle sigle e dei colori, e credo che sia un messaggio decisamente importante per la popolazione toscana. Quindi tutti insieme per ricordare una pagina terribile, persero la vita 12 persone, se ne salvò soltanto una, una bambina di 7 anni che racconta la sua testimonianza all'interno di questo libro. Siamo qui per far sì che appunto pagine come questa non abbiano a ripetersi.